Non solo discarica pubblica, il parco Cassara di Palermo sarebbe stato anche discarica usata dalla mafia. Dichiarazioni sciocche che arrivano dalle parole del pentito Stefano Loverso. Il collaboratore di giustizia è stato sentito nell'ambito dell'inchiesta sulla bomba ecologica scoperta nel parco, una vicenda per la quale la procura ha appena chiesto il processo per dodici tra burocrati e tecnici. Una zona conosciuta molto bene da Loverso perché in passato di proprietà del nonno dai anni 50 e poi è spropriata per 800 milioni di lire. Il pentito ha raccontato che lo scavo del carcere Pagliarelli è stato scaricato proprio in quell'area di 20.000 metri quadrati. Lì sarebbero andati tutti i camion del boss Benedetto Capizzi, ma anche tutti quelli che erano vicini ad ambienti malavitosi. Tutti vedevano, tutti sapevano, ma nessuno parlava. Anche i vigili urbani andavano e venivano, ma non è mai stato preso un provvedimento, ha incalzato Loverso. Una zona mutata nel tempo dagli agrumeti degli anni 60 alla discarica degli anni 80. In quel punto, tra via Basile, Corso Pisani e via Altofonte, sarebbero stati interrati rifiuti pericolosi di ogni tipo. Scarti di una falegnameria, un deposito di carburante, di un'officina di sverniciatura, di allevamenti di animali e carcasse di auto. In effetti, i rifiuti trovati grazie a una consulenza della procura sono compatibili con gli scarti prodotti dalle attività di cui parla Loverso. Dunque, l'inquinamento anche delle falde acquifere sarebbe partito proprio tra gli anni 80 e 90. La stessa famiglia del collaboratore nel 2009 avrebbe scritto alla questura, al comune, a varienti, con l'ausilio di un avvocato per segnalare il degrado della zona. Loverso rincara, nessuno ha mai preso provvedimenti, se uno si rivolgeva ad altri ambienti risolveva le cose, invece con lo Stato non risolve niente.